wow sergio che bella chitarra bel video la prima domanda che mi fanno ma quanto pesa allora lo dico in tono scherzoso non offendetevi ma quanto pesa soffrite di emorroidi non potete suonare seduti fate 150 concerti all'anno e suonate tre volte alla settimana in sala prove dove però si può suonare anche seduti se pesa un chilo in più non la compri cioè ti piace e non la compri perché pesa magari invece che tre chili quattro chili la domanda basilare e primaria che dovete fare non è quanto pesa o il radius o cose del genere come suona